Samuel Stern numero 52 dal titolo Il Padre di Massimiliano Filadoro, Marco Saveniago e Gianmarco Fumasoli con i disegni di Miano. Sigla! Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti, nella rubrica Samuel Stern. Ora torniamo nel mondo della Bugs Comics, torniamo nel mondo del nostro Libraio di Edimburgo, un mondo che sta cambiando, che è cambiato parecchio dopo i primi 24 numeri, lo sapevamo, stiamo affrontando nuovi lidi, siamo entrati in quello che è un ciclo dell'Apocalisse, nel numero scorso c'era uno degli ultimi cavalli dell'Apocalisse che era il Cavallo Verde, questo numero si chiama Il Padre e fa un po' luce su quello che è appunto il padre, diciamo, di Samuel Stern perché in passato c'è stata la madre, poi la fidanzata defunta, la figlia, parliamo un po' anche del padre di Samuel Stern e presumo che appunto in futuro si parlerà dell'ultimo cavallo, il Cavallo Rosso, quando si andrà alla fine dell'Apocalisse di Samuel Stern. Il numero comincia con una fantastica citazione a Ghostbusters 2, ma anche in generale Ghostbusters Afterlife, comunque tutto ciò che è avvenuto dopo Ghostbusters 2, con l'Occultoteca di Ray. C'è proprio l'insegna originale, in lingua inglese, Ray's Occult Books, dove appunto non c'è purtroppo The Necroid, avrei quasi apprezzato di più una citazione più spudorata dove c'era un vero e proprio The Necroid e c'è un personaggio molto più viscido che sembra il classico proprietario di un, non lo so, di incontri di pugilato di terzo ordine o di un locale che apre la domenica pomeriggio e fa spogliarelli e serve i pranzi in America, con la canottiera unta, la pelata, il cappello unto, lungo, gli anellazzi, proprio tipico stereotipo del personaggio viscido, avrei provito magari un vero e proprio The Necroid, ma nell'Occultoteca ci sono anche altre citazioni, io su tutte colgo il clarinetto di Dylan Dogg, sempre nella prima pagina, nella terza vignetta, noto quello, sicuramente ci sono anche altre citazioni che magari io non colgo, però molto molto apprezzato. Una volta che appunto si sorpassa l'effetto wow, diciamo l'effetto nostalgico citazionista, entriamo nel vivo nella trama e vediamo questo Raiden, che non è più a torso nudo perché si è rimesso in sesto, si è rimesso di nuovo in giacca e cravatta, non lo apprezzo tantissimo, vi giuro io non l'ho riconosciuto nella prima splash page, non lo apprezzo in giacca e cravatta, aveva anche il cappello tirato all'indietro, mi è sembrato addirittura Gillian e invece era Raiden, lo avrei preferito con un vestito più casual come l'abbiamo visto appunto le prime volte nel... è vero che l'abbiamo visto in abisco con la divisa dell'agenzia, però ecco, boh questa giacca e cravatta non lo so, non ce la vedo addosso a lui. E nulla, ha questa specie di maschera con cui si sta curando le ferite causate dalla madre di Samuel per liberarlo dall'informe e quindi sta leggermente meglio, ha un po' più di pelle, però è il grosso e coperto ancora da una maschera che pare essere... non riesco a capire se è la maschera che gli ha dato Lord Alistar nel numero scorso o una maschera ospedaliera per guarire dagli infortuni, non ce ne frega niente, era giusto così una puntualizzazione. I disegni mi piacciono, non sto per fare una critica ai disegni o alle inquadrature o alla griglia, ma è proprio... la stampa la vedo strana, potrebbe essere un mio problema, nel senso che magari altri numeri non sono così, non lo so, mi sembra molto puntinata, non è una cosa che apprezzo, anche perché è il primo numero di Samuel che vedo così, non lo so se è voluto, se magari si puntava a ottenere un certo risultato, però non lo so, mi sembra molto faticoso da leggere, ecco, questo volevo dire. Abbiamo un faccia a faccia tra Samuel e Penny che appunto si ritrovano dopo che Samuel gli aveva consegnato Lily, Penny diciamo litiga un pochino con Samuel perché appunto sta buttando fuori quello che gli è successo nel numero scorso, ovvero il fatto di scrollarsi di dosso i problemi degli altri che gravavano sulla sua anima e quindi anche a Samuel dà un po' quello che gli spetta, qui si chiarisce un pochino di più il dubbio che avevo nel numero scorso, ovvero che ha avuto una sorta di incubi che l'hanno aiutata a scacciare la visione maligna di suo fratello, quindi quello che abbiamo visto nelle ultime pagine del 51 era parte di un incubo lucido di Penny, quindi probabilmente questo risponde al mio dubbio del mio scorso video. Per il resto invece appunto vediamo che la figlia di Samuel appunto è stata riportata in orfanotrofrio perché appunto sono passate molte settimane dal viaggio di Samuel, lui manco se ne è accorto, ci sta, ci sta una cosa carina che lui non abbia più il senso del tempo e che il tempo sia scorso esattamente come per noi in un certo senso che tra un numero e l'altro passa un mese. Questo però è palesemente una scusa per far ambientare la scena clou nei sotterranei del convento, perché sennò magari si sarebbe ambientata, che ne so, a casa di Penny e non sarebbe stata così epica come location da vedere. Va benissimo, mi piace un sacco come scusa. E tutto questo, tutto il fil rouge di tutta questa storia è appunto la ricerca del padre, la ricerca di Samael, che dovrebbe essere questo demone angelo, questo primo eresiarca, adesso vi ricordo un attimino cos'è un eresiarca se siete arrugginiti, questo primo eresiarca che addirittura si è ribellato all'informe, che può essere appunto considerato da noi come il diavolo, satana, l'avversario in persona, qua lo chiamano l'informe, no? E questo demone, ribelle ai demoni, è colui a cui è stato consacrato Samuel Stern e di conseguenza è per questo che Samuel è un canalizzatore di ombre che riesce a fare esorcismi, che riesce a mantenere l'equilibrio tra le due fazioni. Ed è bellissimo lo scontro finale, anche se onestamente avrei preferito vedere di più. Nel numero scorso mi sono un pochino lamentato, tra virgolette, del fatto che questa saga dell'Apocalisse ha anche un po' l'onere di chiudere vecchie trame che magari si sono trattenute nella mitologia di Samuel Stern un po' troppo a lungo. Qua invece vediamo una trama aprirsi e chiudersi nel giro di fondamentalmente un numero e mezzo, ovvero il fatto che ci sia questa presenza, questo Samael come demone. Dicono adesso nel numero 52, dopo che non è mai stato accennato, che potrebbe esserci l'entità, la presenza di Samael vicino a Samuel Stern. E sempre in questo numero fanno vedere chi è e non è assolutamente nessuno che ci si può aspettare, quindi presumo dal momento che non è Lily, dal momento che non sono i quattro cavalieri, non è nessuno che ci si può aspettare, è questa persona, questa suora che è vicina al cuore di Samuel Stern perché è la persona più vicina a Lily che essendo figlia di Samuel Stern è il cuore di Samuel Stern. Sì, però non lo so, non mi ha convinto come cosa, non so se, cioè, questa cosa che è appunto, questa cosa che ci deve essere la presenza di Samael all'interno di una persona vicina a Samuel Stern, l'hanno detto in questo numero, e poi si sono accorti che non c'era una persona vicina in Samuel Stern in questo numero per farlo manifestare. Cambia a monte la cosa? No, non lo so, non so, spero che questa cosa sia stata tenuta per, perché magari succederà ancora in futuro che Samael si manifesterà vicino a Samuel Stern, perché se no non mi spiego questa scelta, ecco. Un'altra cosa che invece non mi è piaciuta a livello narrativo, ma è un mio gusto personale, non è che è una cosa fatta male, nello scorso numero abbiamo assistito a Raiden che ha fatto il doppio gioco con la setta di Lord Alistair per poi appunto dimostrare di essere dalla parte di Samuel Stern. Anche in questo numero inizia dove un paio di volte dimostra di essere dalla parte di Samuel Stern per poi tradirlo di nuovo. Sa un po' di aridanghete, sa un po' di già visto e mi è dispiaciuto perché questa volta avrei sperato davvero che Raiden fosse dalla parte di Samuel, invece no, fa ancora un'altra volta questo doppio gioco. Mi è piaciuta un po' questa citazione, non so se è volontaria o no, a Streghe. Se avete seguito Streghe c'era il demone Beltasor che dopo che era stato liberato, no, l'umano dal demone Beltasor, questo umano aveva un vuoto dentro di sé, è stato riempito con il vuoto e qua è successa più o meno la stessa cosa a Raiden. O quantomeno è quello che Raiden è convinto di aver provato perché come scopriamo da quello che dice Lily, in realtà l'informe non se n'è mai andato da Raiden, gliel'ha solo fatto credere. Poi vediamo appunto che l'informe stava solo stando in panchina, diciamo, nell'anima di Raiden, che è tuttora presente, non è vero che non ha più un'anima e Lily dice siete solo degli uomini che per giustificare delle azioni orrende vi inventate questa cosa che non avete più un'anima. Ci inventiamo questa cosa che qualcuno è posseduto per fare una strage. Suona familiare? Ci sta, ci sta come una cosa molto carina, un'informazione forse che passa un attimino sopra la testa per uno che non la legge attentamente, ma è un concetto molto molto profondo, molto bello da tenere ben presente. Vediamo questa sorta di informe che possiede in modo fisico proprio il corpo di Raiden fino a deformarlo, a farlo diventare una sorta di Hulk Raiden e appunto poi vediamo lo scontro tra lui e questo Samuel, versione Berserker, che appunto è il fratello oscuro di Samuel che si scontra con l'informe nel corpo di Raiden e in tutto questo c'è questa suora senza il velo, truccata come un membro dei Kiss, che pare essere appunto Samuel nel corpo di qualcuno vicino a Samuel Stern e a Lily. Però anche lì, col fatto che si è tolta il velo, che si è vista nell'ombra un paio di volte, ho detto boh ok Madison re di viva, ci ho messo un po', cioè finché non hanno fatto vedere la tonaca ci ho messo un po' a capire che non era, che non era Madison, che non era un personaggio dal passato di Samuel, no? Vabbè, poi comunque ci mostrano la nascita di Samael, Samaele, ci spiegano appunto che è stato uno dei primi Eresiarchi. Nel mondo di Samuel Stern non esistono i demoni che vengono dall'inferno, i demoni finiscono all'inferno quando viene effettuato un esorcismo, ma i demoni nascono dall'ombra, nascono da dentro l'uomo. Gli Eresiarchi sono semplicemente dei demoni, delle ombre che sono state tolte da un uomo, sono finite all'inferno e sono ritornate sul nostro piano ma che vengono sempre da una persona fisica. Questa persona fisica appunto è questo Samael che è un abitante dell'antica non si sa cosa, vediamo c'è scritto? No, non c'è scritto, non c'è dato saperlo, potrebbe essere la Mesopotamia, una delle prime civiltà del mondo piuttosto che altre. Sta di fatto che questo Samael era un re, un antico re che voleva contrastare il senza faccia, lo chiamavano l'informe, voleva combattere il fuoco con il fuoco. Quindi si è volutamente sacrificato, in questa immagine molto quasi cristiana dove lo vediamo in croce a un certo punto, si è fatto uccidere dai suoi sudditi per farsi uccidere o comunque scorticare, per farsi generare un'ombra talmente grossa da contrastare l'informe. Infatti vediamo poi che c'è questo demone sviluppato molto potente che ha un battibecco con l'informe, che in questo numero ha una forma molto particolare, quasi comica se non fosse molto inquietante questo sorriso che ricorda un pochino la bocca di Sauron, il Numenoreano Nero, questa specie di fiamma nera con la bocca che sorride al tentativo di Samael di averlo contrastato. Quindi vediamo appunto questo uomo che si è reso volutamente un demone per contrastare il male. E quindi vediamo un attimino come si è sviluppato non solo Samael ma scopriamo che il che Legione, che il regno che Samael ha creato con la sua nascita ha dato vita anche a Legione. Questa parte io non ho capito bene come possa essere possibile, non l'ho ben capita, però è molto interessante che Samael sia stato il responsabile della creazione dell'inferno. Finalmente qua l'informe ci comunica che Legione è a tutti gli effetti l'inferno e Legione è solo un altro nome perché fino a pochi numeri fa Legione sembrava essere solo l'inferno dei demoni. Invece qua pare essere proprio sinonimo dell'inferno dove finiscono anche le anime umane. Quindi umane e i demoni finiscono tutti in Legione. A quanto ho capito io. Quindi abbiamo scoperto anche quest'altra cosa e c'è stato uno scontro, cioè lo scontro finale tra Samael e Raiden appunto si è concluso con un Samael, Samuel Stern che fa un passo indietro, che si rende conto che sono tutti marionette, chi dell'informe e chi di Samael e non riesce a sconfiggere, non riesce a uccidere un altro essere umano seppur posseduto perché è comunque un fratello fondamentalmente. Ha avuto la stessa cosa che è successa a Samuel. Samuel Stern e Raiden sono due facce della stessa moneta, sono stati entrambi posseduti da un'entità contro la loro volontà e Samuel non se la sente di uccidere una persona per una guerra che non è la loro fondamentalmente. Quindi si arrende a questa cosa e lascia andare Raiden che quando si torna sul piano terreno, quindi non su questo piano un po' dell'ombra su cui stavano combattendo, è sparito di nuovo. Lo rivedremo, chi lo sa. Il numero si conclude appunto con questa suora che vomita un'ombra ben formata di quello che è appunto Samael, quindi vedremo cosa succederà. Pare che Samael sia molto interessato a Lily, figurati, sono tutti interessati a Lily perché è l'unica chiave di volta per costringere Samuel Stern a fare quello che vogliono i demoni. Vedremo cosa succederà nel prossimo numero. Questo numero mi è piaciuto molto, l'ho trovato quasi fin troppo veloce, ma è un po' quello che a mio gusto constato sempre nei numeri anche del boss di Samael Stern, Gianmarco Fumasoli. Gianmarco Fumasoli pesta come un treno quando deve rincalzare il ritmo e ci dà tante tante cose, come tante tante botte che prendiamo quando leggiamo un suo numero. Ci sono tante informazioni velocissime, tanta azione e io ho bisogno di un po' di più per digerirla, ma un numero molto molto interessante. Sono sempre più curioso di vedere come andrà a finire questa apocalissima. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà... non lo so, non lo so, ho letto tutto quello che c'è da leggere, ah no sì, sarà sulle tartarughe ninja probabilmente. Arrivederci.